14 settembre. Festa dell'Esaltazione della Santa Croce. Mi abbandono a te Signore. L'Esaltazione della Croce, celebrata il 14 settembre, è una festività importante per la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa e alcune altre confessioni cristiane. L'Esaltazione della Croce non è solo una commemorazione storica, ma ha un profondo significato religioso. La Croce, simbolo della passione e morte di Gesù Cristo, rappresenta la vittoria del bene sul male, dell'amore sull'odio e della vita sulla morte. L'Esaltazione della Croce è un momento importante per i cristiani per riflettere sul mistero della salvezza e per rinnovare la propria fede in Gesù Cristo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi abbandono, o Dio, nelle Tue mani. Gira e rigira questa argilla, come creta nelle mani del vasaio. Dalle una forma e poi spezzala, se vuoi. Domanda, ordina, cosa vuoi che io faccia? Innalzato, umiliato, perseguitato, incompreso, calugnato, sconsolato, sofferente, inutile a tutto. Non mi resta che dire, sull'esempio di Tua madre, sia fatto dimmi secondo la Tua parola. Dammi l'amore per eccellenza, l'amore della croce, ma non delle croci eroiche che potrebbero nutrire l'amor proprio, ma di quelle croci volgari, che purtroppo porto con ripugnanza, di quelle che si incontrano ogni giorno nella contraddizione, nell'insuccesso, nei falsi giudizi, nella freddezza, nel rifiuto e nel disprezzo degli altri, nel malessere e nei difetti dei corpo, nelle tenebre della mente e nel silenzio e aridità del cuore. Allora solamente Tu saprai che Ti amo, anche se non lo saprò io, ma questo mi basta. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo.